Oggi parliamo di guerre fredde in azienda. Le guerre fredde in azienda, a tutti quanti i livelli, quindi dai dirigenti, dalla proprietà ai dirigenti, ai reparti, ai responsabili, eccetera, fanno più danni di un esercito di tarme. Quindi le guerre fredde in azienda fanno più danni di un esercito di tarme. Perché questo? Perché lentamente, lentamente corrodono. Corrodono l'organizzazione, corrodono la motivazione, corrodono un po' tutta quanta quella che è l'orientamento all'obiettivo, sostanzialmente. Quindi il mio consiglio sul discorso delle guerre fredde, anziché si consumino, lasciare che si consumino lentamente, a fuoco lento, perché le guerre fredde hanno questa caratteristica, bisogna cercare di trovare la quadra. La quadra significa farle emergere, significa parlarne, chiamare in causa le persone che vivono questa guerra, sostanzialmente, e cercare, come dice il mio amico Cowie, la terza alternativa. Quella che non va bene a me, quella che non va bene a te, ma una terza alternativa. Un giorno parleremo anche di due minuti di gasta e la terza alternativa. Però oggi mi premeva trattare questo argomento delicato, silente, la guerra fredda è sempre silente, non ce ne si accorge, voglio dire, non si tratta di livelli, ripeto, tutti i livelli è devastante. Quindi cercate di verificare che non siano in atto queste guerre fredde, cercate di verificare, e se lo sono, cercate di farle emergere, discuterne e trovare la terza alternativa. Una soluzione non è stare da una parte o dall'altra, ma la soluzione è fare il bene dell'azienda, e quindi farle emergere, far parlare tra di loro le parti e trovare la terza via. Ok? Buon sabato e buon riposo. Grazie.